Oggi in questo video vediamo la fase di ritocco di quelle che sono le due fotografie che ho scattato nel precedente tutorial della rubrica di scatto e ritocco. Mi sto riferendo alle fotografie pubblicitarie della Xbox Series S e praticamente lo scatto che ho ricreato, che vedete qui a schermo, è semplicemente lo scatto che anche Xbox ha utilizzato per pubblicizzare questo prodotto. Quindi ho cercato quanto più possibile di andare ad avvicinarmi con quella che è la luce e vi ho fatto anche notare a video quali sono le differenze tra una fotografia reale e quella che ho scattato io e una fotografia realizzata, appunto il render, che è quella realizzata da Microsoft. Se non avete visto il tutorial andatelo a vedere perché è molto interessante. Adesso ci possiamo spostare a quella che è la fase di editing e ritocco. Questa fotografia è pressoché pronta se non per il fatto che bisogna rimpiazzare il fondo bianco. Infatti questo non è un bianco buro ma sarà un grigio molto molto chiaro. Ovviamente per aiutarmi a visualizzare meglio quelle che sono le zone, come ad esempio in questo punto, sopra la parte dell'analogico, diciamo è un po' più difficile da vedere perché è quasi tono su tono, vado a realizzare un iHelp. iHelp che è disponibile anche tra le mie azioni che trovate qui sotto in descrizione, ma semplicemente basta creare un livello curve e andare ad abbassare il punto centrale o il punto in alto in base a come vi trovate. Quindi vado a realizzare una selezione con lo strumento penna, che come sapete è lo strumento che io preferisco, ma soprattutto in questa condizione altri strumenti potrebbero avere difficoltà proprio perché siamo quasi tono su tono. Probabilmente la nuova funzione di riconoscimento degli oggetti in Photoshop avrebbe potuto fare qualcosina di meglio, sicuramente con la selezione, ma diciamo a me non dispiace utilizzare quello che è lo strumento penna, anzi mi piace molto realizzare queste selezioni super precise. Come vedete quindi ho chiuso il tracciato e ci tengo a precisare che sto al momento scontornando quella che è solamente il prodotto, quindi lasciando da parte l'ombra per il semplice fatto che essendo sulla parte posteriore leggermente duplicata, proprio perché non era una luce di un proiettore, bensì era semplicemente la luce di un flash senza alcun riflettore, vorrei che quest'ombra sulla parte posteriore fosse un po' più nitida, quindi mi avvalgo appunto di scontornare separatamente l'ombra e il prodotto stesso. Quindi una volta fatto questo posso chiudere la selezione con un raggio di sfumatura di 0,6 ad esempio, mi vado a duplicare il livello con Command o Control J e quindi abbiamo il prodotto. Posso eliminare la Yelp che aiutava appunto nella fase di scontorno e adesso vado a selezionare quella che è l'ombra, semplicemente avvalendomi sempre dello strumento penna. In questo caso ovviamente devo escludere la parte un po' più sbiadita e sfocata, quindi vado a rimuoverla in questo modo, chiudo la selezione e magari do un raggio di sfumatura di 3 pixel, giusto per renderla un pochino più morbida, se no viene troppo troppo netta come ombra. Vi faccio vedere quindi che abbiamo sia l'ombra, adesso possiamo riempire il livello di fondo di bianco, possiamo avvalerci o di utilizzare ad esempio Control Backspace in questo modo o andiamo a creare un nuovo livello tinta unita su bianco, quindi assicuriamoci che tutto sia su 255. Quindi praticamente vedete che dopo aver fatto questo l'immagine è veramente pronta, se non per il fatto che magari con il pennello correttivo al volo possiamo andare a rimuovere un pochino, di imperfezioni nel caso in cui dovessero essercene ad esempio qualche puntino di polvere. Andiamo a pulire anche l'ombra, come vedete c'è qualche piccolo pezzettino di polvere, però come vedete ottenere già un'immagine molto pulita di partenza ci aiuta poi sulla fase di scontorno e ovviamente di ritocco proprio perché è un'immagine molto molto pulita già in partenza. Fatto questo mi piace anche l'impostazione, penso che sia abbastanza centrata, possiamo andare a spostare proprio al centro sia nella parte orizzontale che verticale tutta la fotografia in questo modo, anche se non mi dispiaceva leggermente più sulla destra proprio perché per una questione di simmetria probabilmente così sembra più centrale a vista d'occhio nonostante l'Xbox non lo sia proprio per dare un bilanciamento a tutta la posizione dell'immagine. Possiamo andare ad accentuare leggermente il contrasto? Come avevamo visto praticamente sul render c'era una chiarezza che è un po' difficile da ottenere così in camera proprio perché ovviamente quello era un render e molte volte nei render si va a perdere un po' quella che è la naturalezza di come agisce la luce essendo appunto questa una luce molto puntiforme andava a perdere un pochino quelli che sono diciamo le zone di alte luce le zone di contrasto proprio perché poi essendo tutto fondo bianco le ombre andavano a schiarirsi. Proviamo comunque ad avvicinarci. In questo caso vorrei ad accentuare proprio quella che è l'immagine e posso avvalermi di utilizzare quello che è il filtro camera raw voi direte giustamente Marco non è un file raw non fa niente ragazzi perché a noi non serve elaborare un file raw a noi serve utilizzare quelli che sono i filtri e gli strumenti che camera raw ci mette a disposizione. Ovviamente per avere una valutazione di tutta l'immagine magari mi creo una copia con ctrl shift alt e che praticamente va a creare una nuova copia dell'immagine che include tutti i livelli sottostanti rasterizzati avvio il filtro camera raw da tastiera ctrl shift a e praticamente quello che voglio andare a fare è aumentare un pochino la texture dell'immagine così da recuperare molto il dettaglio aumentare la chiarezza che va ad aumentare un pochino diciamo i contorni e i contrasti un po' come era nel render originale questo ovviamente va a scurire tutti i dettagli come vedete quindi poi vado ad aumentare leggermente le luci e il contrasto e abbasso un pochino le ombre mi apro un pochino i bianchi quindi vedete praticamente ci stiamo avvicinando un pochino a quella che era l'immagine del render dove tutto era molto molto contrastato e con una chiarezza molto accentuata possiamo andare se proprio ci disturba questa grana nelle zone d'ombra che in realtà è dovuta anche alla texture del prodotto ad utilizzare la riduzione disturbo per pulire un pochino i dettagli dell'immagine quindi vedete semplicemente in pochi passaggi abbiamo utilizzato il filtro camera raw per accentuare tutta l'immagine quindi praticamente questa è l'immagine definitiva e mi piace davvero tanto molto pulita e soprattutto sono arrivato al punto veramente di copiarla al 100% se non per appunto come vi dicevo quelle differenze dovute al fatto che sia un render adesso possiamo spostarci a ritoccare quella che è l'immagine che io avrei creato magari per loro come sapete a me piace molto l'idea degli oggetti fluttuanti all'interno delle fotografie e praticamente ho realizzato questa sorta di xbox fluttuante la lasceremo magari su questo sfondo leggermente grigiastro e quindi non su fondo bianco ma noi scontorniamola allo stesso così vediamo magari quale può stare meglio perché probabilmente sul fondo bianco va ancora più a contrasto dato che è comunque un prodotto bianco già di suo per ovviamente rimuovere questo che è il mio dito mi avvalgo dello strumento timbro clone essendo che ovviamente la superficie è molto omogenea e morbida assicuriamoci di non campionare cose strane e soprattutto assicuriamoci di non creare delle chiazze visive fatto ciò quindi con lo strumento timbro clone vado a scontornarmi quello che è l'oggetto sempre con la penna proprio perché diciamo è molto poco a contrasto con lo sfondo quindi altri strumenti potrebbero avere difficoltà ovviamente essendo una scatola praticamente posso anche tracciare delle linee che si andranno a smussare nei bordi semplicemente con una selezione di un pixel command o control j da tastiera e abbiamo un nuovo livello scontornato adesso vado a scontornare l'ombra non la voglio così morbida la vado leggermente ad indurire praticamente quindi considerando la parte più scura e rimuovendo la parte che va più a sfumarsi all'esterno con un raggio di sfumatura di 5 pixel magari questa volta command o control j e abbiamo quindi anche l'ombra vado a creare temporaneamente una tinta unita di bianco poi dopo valuteremo se conservare il fondo originale quindi questo bianco sporco oppure se avvalerci dell'utilizzo di appunto il fondo bianco quindi vedete questa è l'Xbox scontornata faccio la stessa cosa per i joystick e poi ci ritroviamo nell'immagine appunto per vedere un pochino le correzioni che vado ad effettuare ho incollato quindi i due joystick e adesso me li vado a posizionare diciamo nel modo che più mi piace ne ho scattato anche una versione dove si vedevano anche i pulsanti in alto ma essendo che la luce praticamente proviene dall'alto era un po' troppo scuro essendo rivolto verso la parte frontale quindi diciamo che probabilmente questa è l'opzione migliore per andare a rappresentare quelli che sono i joystick possiamo poi essere creativi quindi magari possiamo ad esempio sovrapporre un pochino il joystick a quella che è la console possiamo metterli proprio in alto come se stessero fluttuando quindi semplicemente in base alle nostre preferenze poi facciamo quello che è il ritaglio come più ci piace l'ombra magari è troppo staccata dal prodotto quindi la vado ad avvicinare e a rimpicciolire leggermente proprio per avere una concentrazione maggiore dell'immagine verso l'alto altrimenti diciamo l'attenzione va troppo verso il basso e un'altra cosa che voglio fare essendo che l'Xbox era quasi frontale ovviamente è un pochino in caduta di luce quindi possiamo avvalerci di schiarirla leggermente per quanto riguarda il tono dei bianchi in questo modo molto velocemente come prima ovviamente dovrei assicurarmi di aver dimosso polvere eccetera ma questo ve lo lascio fare a voi diciamo a me questa immagine non servirà semplicemente vado ad utilizzare di nuovo il filtro camera raw proprio per accentuare come prima un po' quella che è la chiarezza e la texture dell'immagine stessa quindi accentuo la chiarezza e poi vado a schiarire un pochino le luci senza esagerare altrimenti andiamo a fondere troppo il prodotto diciamo in tutto il resto quindi vedete in questo modo accettiamo leggermente la chiarezza del prodotto e poi vado a schiarirmi ulteriormente l'Xbox in basso che mi sembra ancora un po' troppo scura mi avvalgo di utilizzare lo strumento curve prendo il pennello di bianco opacità magari 50% e vado a pennellare in questo modo quindi la foto di prima era questa la foto di adesso è questa accendiamo leggermente la chiarezza e i contrasti di tutta l'immagine queste ombre ovviamente sono molto sfumate e rendono appunto il prodotto molto tridimensionale peccato ovviamente che la console essendo molto piatta sia un po' più difficile avere questa tridimensionalità come la curva però come vedete è una fotografia molto interessante e mi piace davvero tanto comunque è un'alternativa abbastanza interessante rispetto a quella che ha creato Xbox diciamo si poteva giocare in tantissimi modi o lì ho la console in diverse posizioni fluttuanti io ne ho scelta una a caso e poi come ultimo scatto avevo realizzato questa macro del joystick che però appunto anche lì sempre scontorno, in piazzo eccetera è già pronta l'immagine non mi faccio vedere sempre lo stesso processo ma appunto mi interessava realizzare la fotografia così come la scattata Xbox è una mia versione dello scatto con la console fluttuante se questo video vi è piaciuto ragazzi io vi invito a lasciare un bel mi piace a supportarmi iscrivendovi al canale e seguirmi sui miei social personali trovate qui sotto in descrizione tutti i link utili noi ci vediamo in un prossimo video e nel mentre continuate a creare un saluto da Marco ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti